Ciao a tutti, oggi prepareremo le pigne di pandoro e nutella. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono pandoro tagliata a pezzetti, nutella, mascarpone, cacao amaro e cornflakes al cioccolato. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il pandoro ed azioniamo il bimbi per 10 secondi a velocità 6. Riunire sul fondo del boccale e ripetere per 10 secondi a velocità 6. Riunire sul fondo del boccale, aggiungere il cacao, la nutella, il mascarpone ed azionare il bimbi per 30 secondi a velocità 4. Trasferire il composto in una ciotola. Prelevare un po' di impasto e formare dei coni. mettere i gonflakes partendo dalla base. Buon.. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.